Ringrazio il Presidente Malagò per le parole così cortesi, saluto e un saluto a tutti, federazioni, tecnici, allenatori, assistenti, ma soprattutto a voi, carissimi atleti e carissimi atleti. Non intendo infliggervi molte parole, sono convinto che ne ricevete in grande quantità in questi giorni, da preparatori, da allenatori, da tecnici, ci ma chiedeva soltanto che il Presidente della Repubblica aggiungesse un carico ulteriore, quindi mi limito a ben poche cose, anzitutto complimenti per essere qui. I criteri selettivi erano molto rigorosi, essere arrivati significa avere manifestato e dimostrato un talento straordinario e quindi è già questo un successo. Naturalmente quello che tengo a dirvi è una cosa soltanto, avete intorno a voi l'affetto e tutta l'Italia, un affetto sincero che non dovete interpretare come una pressione, vi prego di non avvertire alcuna pressione su di voi. Sono certo che farete, esprimerete al massimo il vostro grande talento, tutte e tutti e che lo farete con grande impegno, con dedizione, con senso dello sport. Le medaglie che arriveranno saranno benvenute, poc'anzi sentivo all'innovazione, è bello sentirlo sempre, sarà ancora più bello quando lo farete sull'unare voi, sul podio delle gare. Ma ripeto, non dovete sentire nessuna pressione su di voi, dovete gareggiare con serenità, con tranquillità, che questo consente di esprimere al meglio le vostre capacità e i vostri talenti. Vorrei anche aggiungere che avete un messaggio a dare in un mondo così complicato, l'abbiamo parlato al Quirinale quando ci siamo visti, questo momento in cui qui intorno vi sono tanti paesi, tanti atleti, atlete di altri paesi, è un messaggio di civiltà, di amicizia, di speranza, di serenità internazionale. E quindi vi dico un grande bocca al lupo. Ripeto, le medaglie saranno importanti, ma quello che è importante è quello che avete sempre dimostrato e dimostrerete, il senso dello sport, quello di gareggiare con impegno, con lealtà, con desiderio di superarsi nel proprio misure e tutto questo è un grande patrimonio. Vi ringrazio per questo incontro, sarà un piacere stare con voi in questi momenti e davvero vi rivolgo un grandissimo in bocca al lupo. Aragoste, astici, gran seole, gran chiporri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia.